Amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive avete una fiat 500 magari comprata usata non siete molto esperti c'è da farla vedere un attimino per capire se va tutto bene c'è qualche rumorino strano guardate questo video così magari imparate qualche cosa di nuovo sigla ecco come dicevamo abbiamo in lavorazione questa tia 500 abart 595 il modello è il competizione quindi quello con 160 cavalli che il cliente ha comprato usata ok vabbè quindi come tutte le vetture usate chi ve le vende le descrive come macchine perfette appena uscita dalla fabbrica senza alcun tipo di problema però io quello che consiglio sempre è di soprattutto quando si parla di auto in particolare e magari non solo quello di avvalersi della della competenza c'è un controllino in più sull'integrità strutturale della macchina sia strutturale che meccanica della macchina soprattutto su macchine particolari come questa 500 abart è una macchina macchina normalmente che viene usata in maniera abbastanza brillante in maniera abbastanza sportiva ma questo indipendentemente dal fatto che sia una macchina sportiva ipersportiva o una macchinina piccola con 75 cavalli purtroppo lo sappiamo ci sono in giro tante persone che l'onestà sanno solo che cos'è da un punto di vista scritto ma da un punto di vista pratico è assolutamente lontana dei loro criteri quando uno poi spende dei soldi e si trova in difficoltà poi recuperare questi soldi credetemi è veramente molto molto difficile quindi piuttosto controllatele prima se vedete qualche cosa che non va lasciatele lì non lasciatevi prendere dalla dalla foga dalla dall'impressione che quello è l'affare del secolo tanto ripeto la cosa principale avere la macchina a posto in questo caso come dicevo il cliente ce l'ha portata questa macchina non è che abbia dei problemi particolari l'abbiamo controllata tutto sommato è una macchina abbastanza onesta l'unica pecca che abbiamo rilevato il fatto che appunto cliente che veramente non è molto esperto non è che voglio offendere il cliente per l'amore di dio però ognuno il suo mestiere quando me l'ha portato dice guarda luca io sento un rumore pazzesco sono sicuro che un problema sullo scarico che è venuto fuori dopo averla acquistata da un sei mesi questa parte sento questo rumore dai 2500 2700 giri non mi fido la macchina comunque frena anche male sono convinto che viene c'è qualche cosa sullo scarico guarda la sfera di cristallo non ce l'ho me la lasci mi fissi un appuntamento abbiamo messo giù un elenco di controlli da fare e se tutto rientrava in un ambito non drammatico a livello di costi in più ci ha affidato anche la rimappatura della centrale elettronica allora tanto abbiamo controllato la macchina nel suo insieme allora direi che di problemi particolari non ce ne sono quindi abbiamo diciamo iniziato con la lettura e la scrittura ricordiamo che per fare la centrale elettronica via seriale di questa macchina la centrale va smontata non aperta ma va smontata dopodiché max collega i suoi connettori sui pin in modo che si può leggere e riscrivere il file abbiamo come al solito fatto un file non diciamo non eccessivamente spinto per non andare poi incidere sulla affittabilità meccanica quindi diciamo che da 160 cavalli verosimilmente siamo arrivati a 185 183 quindi 23 25 cavalli in totale sicurezza vanno più che bene la macchina rapporto peso potenza è ottimale questa macchina fra l'altro monta già di serie e lo scarico sportivo record monza quindi problematiche non ce ne sono come dicevo l'unico aspetto problematico che poi era la causa del famoso rumore non c'entrava niente lo scarico lo scarico assolutamente perfetto la causa è data dai mozzi il rumore di rotolamento quando i nostri meccanici l'hanno provata si sono accorti che appunto il problema proveniva appunto dal dei mozzi posteriori in particolare dal mozzo destro però quel punto abbiamo deciso di cambiare tutti e due che cosa è successo in sostanza qua vediamo meglio la problematica questo è il mozzo originale come vedete ci sono dentro il mozzo a le due gabbie all'interno delle quali ci sono delle sfere che formano il cuscinetto adesso non vi spiego tecnicamente come comunque penso che lo sappiate ovviamente hanno un grasso particolare e il tutto è vincolato in questo mozzetto sul quale poi va montata tutta la parte del disco freno tutta la parte della massa non sospesa che di disco freno cerchio e quant'altro in questo caso abbiamo scoperto che adesso qua purtroppo non si vede io vorrei cercare di non sporcarmi molto le mani comunque ecco qua si vede chiaramente vedete che questa parte interna è completamente nera questa pista si chiama è completamente nera quindi cos'è successo qui sicuramente c'è stato uno sfrigamento in un innalzamento del calore notevole che ha comportato lo sgradamento della gabbia la gabbia è questa è piena di grasso la sposto così queste sono le sfere max ne mancavano anche di sfere giusto o erano tutte ecco mancavano mancavano ecco quindi mancavano le gabbie morale della favola che diciamo il sistema di scorrimento del mozzetto era completamente con un compromesso quindi creava un rumore notevole e il rischio enorme quando succedono queste cose qua e uno non interviene è che qua si crea un calore enorme cioè per andare a bruciare questa questa parte qua in ghisa sicuramente per andare a conciare la parte in questa maniera vuol dire che qua si sviluppa un calore di ben superiore ai 100 gradi anche i 150 200 gradi e qua c'è del grasso cosa significa che se uno insiste alla fine i materiali quando il grasso viene consumato i metalli comunque col calore hanno un'espansione perché hanno una dilattazione metallica dovuta dal calore succedono due cose o nella nella prima dell'ipotesi si blocca la ruota la cosa più facile che proprio i due materiali vadano si espandono talmente tanto per cui la gabbia chiude sulla pista e il mozzo non non gira più praticamente per cui la ruota in questo caso posteriore destra si blocca e la macchina si gira su se stessa con i benovi problemi un'altra ipotesi ancora più disastrosa è quella che contenendo il grasso il grasso chiaramente infiammabile quindi se io aumento la temperatura in maniera esponenziale questo grasso può anche prendere fuoco se prende fuoco questa parte qui attaccato qua ci sono le tubazioni dei freni mi prende fuoco la macchina quindi ripeto da un problema stupidissimo di una di una parte di gabbietta rovinata se uno se ne accorge mette a posto tutto la macchina ritorna nuova questo è il mozzo nuovo che abbiamo ordinato perfetto con la sua gabbia completamente liscia con la sua gabbia nuova e questo è famoso cuscinetto a sfera che ovviamente ha il suo incastro vengono in questo caso vengono inseriti a caldo ovviamente perché non sono inseriti diciamo unendoli gli uni con gli altri con una semplice pressione ma ci vuole proprio vengono uniti a caldo in maniera tale che con il raffreddamento poi si diciamo il pezzo diventa solidale però ecco una cosa di questo genere questo è il disco e anche in questo caso il disco ha subito nonostante gli avessero cambiato le pastiglie che sono relativamente anzi completamente nuove anche qua hanno fatto un lavoro non corretto perché come potete vedere questo disco qua che non è consumatissimo però è molto rovinato la pastiglia ha lavorato solo sulla metà del disco in sostanza sulla metà diciamo verso il centro del disco perché è qua che ha lavorato mentre avrebbe dovuto lavorare su tutta la pista cioè questa pastiglia qua non lavora in maniera corretta perché lavora solo per la metà del della superficie frenante anche in questo caso bisognerà capire e bisognerà vedere o gli cambiamo i dischi bisognerà capire come mai è come se il disco lavorasse in maniera obliqua in un certo può essere dovuto e poi sicuramente non è un problema che è stato cioè che è nato con l'acquisto della macchina questo tipo di problema è subentrato successivamente quindi come in tutte le aree se non mi ricordo esattamente i chilometri della macchina mi sembra che siano 86 mila o 90 mila chilometri se non mi ricordo male quindi può darsi che sia subentrato successivamente quindi l'acquisto di questa macchina comunque è positivo non ha subito incidenti non ha diciamo non è stata modificata diciamo in maniera radicale la mappa la prima mappa l'abbiamo fatta noi ha solo il filtrino sportivo alloggiato nella scatoletta filtro altre cose non ne ha il silenziatore quello sportivo originale quindi macchina direi assolutamente valida l'unico problema grosso è da mettergli a posto come dicevamo questa questo problema perché questo problema veramente adesso è un problema se vogliamo piccolo fra virgolette ma se fosse stato trascurato dal cliente che continuava a pensare che magari un problema sullo sky e magari andava a roma quest'estate con 50 gradi questa macchina si fermava a modena e andavano a prendere con il ragno la stavano via perché chiaramente col calore questa parte qua prende fuoco immediatamente come potete immaginare prendendo fuoco tutto quello che ha dentro l'olio l'ammortizzatore e le tubazioni dei freni qualunque altra cosa prende fuoco tutto qua quindi state molto attenti e appena avete il sentore di qualche cosa che non funziona anche se non siete esperti come nel caso di questo cliente affidatevi agente esperta dopodiché agente esperta si mette qua analizza qual è il problema cerca di risolverglielo andando a mirare solo sul problema non è che diciamo al cliente guarda che qui tutta la macchina bisogna anche stare attenti perché inventarsi come dico io la favola del mago sulle macchine sulla parte meccanica non è così difficile quindi attenzione anche a chi vi rivolgete i meccanici sono tutti delle brave persone come tutte le categorie che lavorano e io faccio parte di questa categoria però come in tutte le categorie c'è anche gente sulla quale non è o perfettamente competente perché ho sentito anche delle valutazioni sbagliate da un punto di vista meccanico dico ma questo qua cosa fa il meccanico fa il l'agricoltore diretto con tutto rispetto per gli agricoltori diretti proprio non capivo un cazzo di questioni le meccaniche è impossibile che uno mi dica una cosa di questo genere oppure altri e ci è capitato dove appunto hanno o fatto dei lavori in più addirittura la cosa peggiore è quella di caricare al cliente dei lavori non fatti quello ancora peggio è ancora peggio direi che in tutti e due due casi è una cosa assolutamente quindi sono 30 anni che lavoro e mi sono messo in testa sono molto tranquillo quando vado a casa la sera sono veramente tranquillo se vi lo potete controllare anche facilmente sui social sulle recensioni sulle fatto che noi siamo molto molto conosciuti sapete come lavoriamo la gente viene da noi perché sa che cerchiamo di evitare problemi di questo genere poi ovviamente anche noi sbagliamo siamo degli esseri umani abbiamo sbagliato continueremo a sbagliare perché non siamo ancora non siamo ancora dotati lo spirito santo non ancora atterrato qua e non ci ha dato un sistema per fare i miracoli per il momento poi magari domani lo farà anche però per il momento i miracoli non riusciamo a fare siamo degli esseri umani e come tutti gli esseri umani sbagliamo solo chi non lavora non sbaglia però un conto è sbagliare perché uno non si accorge di una determinata cosa in maniera del tutto naturale la fa ma in maniera sbagliata poi una volta che si accorge viene corretta un conto è farlo appositamente sono due atteggiamenti che pongono uno spartiacque veramente netto vabbè dopo questa dissertazione alla corsica come dico io spesso io direi vi ho elencato un caso se volete semplice ma che comunque può esservi utile quindi direi che anche per questa 500 abart competizione e tutto io quello che vi chiedo è cliccare sulla campanella mettere un bel like di incoraggiamento che non fa mai male e soprattutto iscrivetevi al canale perché aiuta molto il nostro lavoro la diffusione del canale e soprattutto vi tiene aggiornati tutte le lavorazioni che noi facciamo un saluto alla prossima grazie a tutti